Salve a tutti, ho visto che è uscito un nuovo aggiornamento next gen di The Witcher 3 io l'avevo già finito qualche mese fa, c'è tutta la serie completa sul canale e volevo fare un paio di video che spiegano alcuni aspetti di The Witcher 3 che magari chi ha appena iniziato a giocare approfittando appunto dell'upgrade per PS5, Xbox Series X magari non ha capito in questo video affrontiamo il tema come curarci perché so che potrebbe essere scontato ma io nelle prime ore di gioco non lo avevo capito quindi partiamo col dire che per curarci ci sono diversi modi il più semplice è utilizzare il cibo, adesso vi faccio vedere un semplice modo per curarsi è andare nell'inventario, prendere cibo e bevanda e bere o mangiare questi allora vi sconsiglio gli alcolici perché poi vi portano diciamo diventati ubriachi possiamo dire così quindi il problema degli alcolici che poi Geralt incomincerà a vedere male e avrà tutti questi problemi qui e vi consiglio o carne, pesce, comunque cose non liquidi però il migliore cibo per curarsi rimane l'acqua, la bottiglietta d'acqua che vedete nel mio inventario un altro modo per curarsi il più efficace possiamo dire è esattamente questo è usare la pozione della rondine che è esattamente questa qui guarda esatto questa qui in pratica vi ho tanto dire di generazione e vitalità e infatti come vedete accelera la rigenerazione della vitalità quando subisci danni e allora esistono diversi tipi abbiamo la pozione rondine normale che ve la ricarica al 40 e la pozione rondine superiore però non so se si sblocca solo nel DLC Blood and Wine non lo so potrebbe questi erano i due principali modi e più efficaci per curarsi quindi bottigliette d'acqua e pozione della rondine e vi curate per questo brevissimo tutorial è tutto ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi bella